eccoci ragazzi volare ci manca facciamo finta che oggi sia una bella giornata di sole post covid 19 stiamo andando al campo di volo e siamo pronti per fare una lezione di volo come ci dovremo comportare allora innanzitutto metterò il mio capellino perché come abbiamo appena detto è una bella giornata di sole dopodiché indosseremo la mascherina con le dovute precauzioni seguirà i guanti ecco fatto e ora siamo pronti per volare